Refezione scolastica a Montesilvano, il bando è poco chiaro secondo il Movimento 5 Stelle. Cosa ci vedete di poco chiaro in questo bando, in questo affidamento che vuole l'amministrazione comunale? Ma noi abbiamo raffrontato questo bando che è stato proposto dall'amministrazione comunale ad ottobre addirittura e abbiamo visto che per un pari bando di una città, come quella ad esempio di Moncalieri, che ha più o meno la stessa popolazione, il Comune di Montesilvano si troverà a spendere più di 200.000 euro ogni anno in più. Allora ci chiediamo perché questa spesa in più è davvero necessaria in questo periodo di ristrettezza economica? In realtà abbiamo paura che questo bando sia stato cucito a misura di azienda, anche perché vi sono altri fattori che ci portano a vedere questo problema, come ad esempio mettere un centro cottura a 15 km dalla sede comunale, invece che ad esempio 30-35 km come altre città fanno. L'amministrazione dovrebbe rispondere su questi problemi invece che fare orecchie da mercante. Come vi state muovendo questo esposto a chi lo porterete? Allora, il nostro consigliere comunale Manuel Anelli oggi pomeriggio porterà questo esposto in procura. Inoltre nell'esposto abbiamo indicato alla procura anche di comunicare con la procura regionale della Corte dei Conti per vedere se vi sono delle difformità anche dal punto di vista amministrativo contabile e se vi sono dei danni per l'amministrazione comunale che in questo caso in realtà sono solo danni futuri perché la procedura è ancora in essere, in realtà non è stato ancora firmato il contratto da quanto noi sappiamo. Non era dunque meglio muoversi in ambito più politico-amministrativo del Consiglio Comunale? Ci abbiamo provato ma abbiamo fatto una interrogazione al Consiglio Comunale e in realtà l'assessore ci ha risposto picche, praticamente ci ha risposto che non c'è alcun problema e che si fidava totalmente dei propri dirigenti. In realtà noi poniamo l'accento neanche sul problema politico, bensì riteniamo più che altro che vi sia un problema proprio all'interno della burocrazia comunale. Grazie a tutti.